Ultimi giorni da scapolo per George Clooney. L'attore rollevudiano, ormai di casa sul lago di Como, si appresta a sposare l'avvocato anglo-libanese Amal Alamuddin e cresce l'attesa tra paparazzi e amanti di gossip. Secondo i beni informati, le nozze sull'ario sarebbero ormai dietro l'angolo e ogni giorno potrebbe essere quello del fatidico sì. In molti, compresa la rivista Vanity Fair, puntano sul 12 settembre, nonostante il detto scaramantico sui matrimoni di venerdì. Per il direttore di Chi, Alfonso Signorini, invece, come svelato ieri sera a ETG, le nozze potrebbero essere anticipate addirittura al prossimo weekend. Grande incertezza anche sulla location. Non abbiamo ricevuto richieste e non sappiamo nulla, quindi dubito che si sposerà a Laglio e a Villa Oleandra, spiega il sindaco del paese Roberto Pozzi. In questi giorni, aggiunge, non abbiamo notato nulla di diverso rispetto alle abitudini di Clooney. Solo i consueti movimenti dovuti continua alla presenza dei numerosi ospiti estivi, ma nessun preparativo particolare. Penso che voglia conclude una cerimonia molto riservata, come nel suo stile. Tutto tace per il momento, insomma, intorno a Villa Oleandra. Del resto, no sposi, no parti.